Ciao ragazzi e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi make up tutorial in collaborazione con Max Factor, Stormtrooper, sempre riprodotto e creato più che altro dalla grandissima, meravigliosa Pat McGrath per l'uscita al cinema del film Star Wars. Quindi io vi lascio immediatamente al tutorial dove vedrete step by step come realizzare questo trucco, spero che vi piaccia, mi raccomando se vi va riproducetelo anche voi a casa e mandatemi tante tante foto con hashtag Glamour Force o hashtag Max Factor. Non vedo l'ora di andare al cinema a vedere questo benedetto film perché secondo me è fantasmagorico, poi i look che ha creato Pat McGrath io li adoro e quindi mi raccomando andateci anche voi e vi lascio immediatamente al make up tutorial. Ciao a tutti! Il primo passaggio per realizzare il look di Stormtrooper è applicare ovviamente il fondotinta quindi creare una base perfetta, io utilizzo il Face Finity 3 in 1, questa qui è la colorazione Warm Almond 45 quindi deve essere molto molto chiaro, avere una pelle di porcellana perché la caratteristica fondamentale di questo trucco saranno degli occhi veramente molto molto particolari. Quindi lo applico su tutto quanto il viso e anche un po' sul collo e sulle orecchie per rendere tutto perfetto. Ritefinisco le sopracciglia con l'eyebrow pencil nella colorazione ebony. Vado a scolpire il viso per dare un po' un tocco di drammaticità in più a questo sguardo che andremo a creare successivamente con un ombretto, questo qui è dalla palette numero 01 Oculent Nudes ed è un marroncino quindi un tono lievemente più scuro rispetto al nostro colorito naturale di pelle. Vado a scolpire lo zigomo. Per dare un tocco di luminosità in più vado a tamponare qua proprio sopra lo zigomo questo qua, l'Excess Shimmer nella colorazione Copper giusto per dare quel brilluccichio in più. Adesso inizio a definire il triangolo al di sopra dell'occhio quindi iniziamo proprio a creare il vero vero make up. Vado a utilizzare la col pencil nella colorazione 020 black e inizio a creare il triangolo dalla parte interna dell'occhio che va poi verso l'esterno. A questo punto dove ho realizzato i perimetri diciamo ma grandi linee dei triangoli che andremo adesso a riempire, vado a utilizzare il masterpiece, l'eyeliner in penna di Max Factor. Lo vado a riempire e vado a sistemare proprio le linee in modo tale da fare una cosa veramente molto molto precisa. Ovviamente lasceremo le modifiche finali quindi proprio la precisione totale alla fine quindi dopo aver messo anche il bianco. In questo caso dopo aver riempito tutto qua vado sempre con la matita nera quindi la col pencil a realizzare una linea proprio sopra le ciglia superiori che vado poi a sfumare e porto anche sotto le ciglia inferiori. Prima di passare a completare tutta la parte di triangoli neri e precisione totale del trucco vado ad utilizzare la wild shadow pencil bianca per riempire tutti gli spazi vuoti. Magari mi vado ad aiutare anche con un pennellino da precisione così almeno vado a riempire tutto quanto e successivamente vado con un ombretto per intensificare un po' il bianco. Una volta applicata la wild shadow pencil bianca aiutandomi anche con un pennellino vado a utilizzare il wild shadow pot sempre bianco vado proprio a tamponare l'ombretto per dare proprio luminosità al colore. Adesso sempre con il masterpiece eyeliner vado a realizzare una linea che va da dove ho sfumato la matita nera all'inizio dell'occhio fino alla fine del triangolo proprio che vado ad incorniciare. Concletto il look degli occhi dopo averlo rifinito perfettamente con l'eyeliner in penna con due passate del mascara clamp defy quindi nero. Mi raccomando una bella passata perché le scie devono essere molto ben definite. Ridefinisco i contorni e riempio tutte le labbra con la matita color elixir lip liner nella colorazione 06 mauve moment. Infine col colo elixir lipstick nella colorazione 685 mulberry vado a riempire tutte le labbra. Et voilà il vostro look da stormtrooper è completato spero tantissimo che vi piaccia e mi raccomando se volete riprodurlo mandatemi tante foto con hashtag glamourforce o hashtag maxfactor. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video vi mando un grande bacio ciao a tutti. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video vi mando un 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 video